A sentire molti esperti era del tutto istinta, ormai non abitava più le coste di Calagonone verso Dorgali, non era più presente quella foca monaca che invece un tempo era di casa, proprio nelle grotte del Bue Marino, il modo in cui venivano chiamate in altro modo. Eppure il piccolo o la piccola foca monaca che è stata trovata, purtroppo senza vita, testimonia del fatto che la foca monaca probabilmente c'è ancora. Si tiene lontano, si tiene lontano da quella che è la costa, una costa sempre più frequentata, battuta soprattutto dai turisti, meravigliosa sul piano ambientale. Si tiene lontano e non si fa vedere, forse perché ha capito che tipo di mondo nel frattempo stiamo affrontando, compreso il Covid. Ecco, la foca monaca è tornata per assurdo nel momento in cui tutti dicono che in Sardegna è pericoloso venire. Lei si è affacciata lì nella costa e purtroppo ha perso la vita, non è riuscita a resistere probabilmente a chissà quale tipo di problema. Probabilmente è un problema lontano da quello che viviamo noi, perché nel mare ce ne sono altri, le microparticelle legate alla plastica, all'inquinamento e via dicendo. Quelle che allontanano le foca monaca, quelli che sono i problemi, quelle che sono le storture che effettivamente finiscono per allontanare questi animali che sono così timidi e che si mantengono così in riservati. Però da qualche parte ci sono. Qualcuno anche negli anni scorsi ha detto di averle avvistate, chiaramente nella bassa stagione, quando è più facile frequentare quelle coste e non trovare tanta confusione. Schive, vanno a vedere un po' quello che succede, soprattutto vanno a vedere quello che viene lasciato. Perché il grosso problema anche del nostro ambiente, non solamente marino, ma anche ambiente interno della Sardegna, è come trattiamo quello che viene definito un paradiso. Perché di fatto un paradiso lo definiamo quando si tratta di vederlo così bello e pulito, ma poi molte volte quando andiamo via non lo lasciamo allo stesso modo. E per chi attraversa la Sardegna questo scempio è sempre più visibile. È visibile nei posti molto belli, ma è visibile anche nelle campagne immediatamente vicine alle città. Perché è vero che noi abbiamo sempre da ridire su tutti quanti, però non andiamo a fare le piccole cose che è l'inquinamento quotidiano. L'inquinamento minuzioso, l'inquinamento minuto, mi verrebbe da dire, finisce per determinare. È una terra la nostra che dobbiamo curare con attenzione, che dobbiamo difendere con attenzione, ma la dobbiamo difendere già dai nostri primi gesti. Quelli che portano molto spesso a non capire che anche un piccolo oggetto, anche un piccolo scarto, può essere accumulato, tanto diventare un pericolo per tutti. Magari come quelli che sono stati buttati per mare e che hanno fatto allontanare la foca monaca. Che ritorna, guarda, talvolta riesce ad andare via, altre volte purtroppo perisce, ritornando nei loro posti, nei posti dove abitualmente stava.